Gara da dentro o fuori, questa sera al Curi fra il Perugia ed il Trapani, uno scontro salvezza importante per il futuro del campionato di Serie B. I Granata hanno l'unico obiettivo di vincere per poter continuare a sperare. La formazione trapanese però non è padrona del proprio destino. Serve infatti osservare anche il risultato di Juve Stabia Cremonese per alimentare una speranza. La società Granata intanto si è mossa presentando il ricorso al CONI per chiedere la restituzione dei due punti di penalizzazione. Non è nota la data di udienza ma potrebbe avvenire in tempi celeri considerando che la conclusione del campionato di Serie B è fissata per venerdì. La partita di oggi presenta diverse incognita. Oddo infatti è stato richiamato da una settimana alla guida del Perugia. A Chiavari il tecnico di origini trapanesi ha schierato la propria formazione con il 4-3-2-1. Squadra che potrebbe essere confermata anche per la gara contro il Trapani con l'unico dubbio fisico del trequartista Buonaiuto. uscito malconcio alla caviglia dalla partita contro la Virtus Entella. Per il Trapani si parte dalla difesa 3 formata da Pirrello, Pagliarulo e Buongiorno che bene ha fatto durante l'ultima partita contro il Pescara. Davanti a loro è un vero e proprio enigma. Sulle fasce Cupiz e Grigio dovrebbero giocare dal primo minuto. In mezzo al campo iniziano ad esserci alcuni dubbi di formazione. Auger potrebbe essere confermato in mezzo con Togordo che rimarrebbe in panchina per la seconda volta consecutiva. come Mezzali e ballottaggio tra Colpani, Coulibaly e Luperini. I tre giocheranno durante la partita. Resta da stabilire chi saranno i due titolari. In avanti Pettinari e Piszczek potrebbero partire dal primo minuto con Dalmonte pronto ad entrare nella ripresa. Ascoltiamo Massimo Otto e Fabrizio Castori che presentano così il match di questa sera. E' una partita ovviamente decisiva per entrambe le squadre. Affrontiamo una squadra che è in grande salute. Una squadra che nelle ultime 12 partite ne ha persa una. Quindi non dobbiamo fare l'errore di farci influenzare da una formazione che in questo campionato magari ha fatto più fatica delle altre. Perché nell'ultimo periodo, da quando c'è Castori, questa è una squadra che viaggia e viaggia anche bene. Sappiamo quelle che sono le caratteristiche di questa squadra. E dobbiamo essere molto molto intelligenti nel gestire la gara nel migliore di modi. Il Perugia è una squadra di sé già forte. È un avversario difficile da affrontare. Quindi sono una valutazione che fa la società. Io sinceramente penso che sia Oddo che Cosmi sono due ottimi allenatori. Quindi a prescindere da chi siede là in panchina, comunque è una squadra difficile da affrontare. Perché comunque è una squadra che ha una certa caratura tecnica. Però, ripeto, io sono molto concentrato sulla squadra mia e sui miei ragazzi come sempre. Perché è quello che dobbiamo pensare a noi e non troppo agli altri. Perché si rischia poi di disperdere energie e risorse mentali. Quindi noi sappiamo che dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro. Spremerci come limoni, come abbiamo sempre fatto. A prescindere da chi abbiamo di fronte. È una partita difficile. Noi oggi giochiamo la salvezza. Andiamo contro un avversario, come ho detto prima, forte. Che era partito con ambizioni di primato. E questo è un po' la serie B. Un campionato molto difficile, molto duro, livellatissimo. E quindi, come tutte le partite, sarà una partita oggettivamente molto difficile da affrontare. L'avversario è tosto.